Ciao ciao dal canale Nikita, oggi noi facciamo una roulette e cosa si fa con questa roulette? il numero che di capita devi mangiare, questo qua è marshmallow con soia devi putterlo nella soia e dopo mangiarlo ma queste sono tutte le cose che poi potete mangiare, e beh mi sembra buone però che cosa sono questi qua, i vermi, insetti veri, e questi qua sono gamberini sereni non li ho provati però, e questo cos'è questo qua, marshmallow, insalata pieno di, l'insalata è la peggior cosa anche, questo sembra, ma non so il verde qua, questo qua è il succo della bomba, lo chiamo succo della bomba perché gli ammazza la gola le caramelle invece sono proprio buone, i peperoncini, i peperoncini, no quelli io non li mangio cibo per astronauti, inizia serena, tra le mie città, sei gentile mi è volata via una caramella, la pallina? dov'è? alla patamba, alla patamba, alla patamba che cosa che buono e non parlare come di solito, 29 29? bene che non ero la 10 avete un sacchetto per il vomito scherzo spero che non mi capita niente di di... eh, saggia furbo vai che buona cosa sai di spazzatura? toxic waste waste o di spazzatura? è schifo è schifo è schifo io ero stato il più coraggioso è schifo stacchetto per il vomito stratopico facciamo questo per spazzatura quindi vuoi sputare? eh, anche sputare vai, avanti 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 Serena tocca a te Serena guarda il turno di Serena dai, dai faccio io prendi tre da tre sono buone no, per lei mi sa che sono buone devi mangiare nasticala buona tre spero che prendo la venticinque venticinque cibo per assoluti buco 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 io lo mangio anche tutto no, tutto non puoi perché perché dopo sono tante altre cose mmm sti gelato è buono vuoi provare Serena dai te? fai provare Serena dai il cibo per astronauti avanti avanti dopo l'hai presa la vole Marcia spero che mi capita la 10 il capone vuoi cici 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 quattordici no cos'è il succo di pompermo quello dai vediamo se indovini ehh ma questo è diffidente e buono avanti Nikita il tuo turno dai Nikita mi sa che morirà. Do il zero, spero di prendere il zero. Cos'è? 34. Eh, 34. Cerchiamo il 34? Eccolo qua! 34! Mangiali! Tanto sei abituato. Il 34 dai mangiali! Insetti. Tengo già aperta la spazzatura. Dai che ti sono piaciuti le tue volte. Sono commestibili? Non bisogna tenerli in mano. Mi so che sono andata a mano. Ti ricordi che a Londra c'erano i ristoranti? 10. Cosa è uscito? 32. 32. Eccolo qua! Il marshmallow con la soia. E' buono. 32. Puccia il marshmallow dentro la soia. Mika, tu la parte sotto devi mangiare. 12. 12. 12. Ecco quella 12. Dove? Le patatine morte. Le patatine morte. No, il 21. Queste qua! Le cacche. Queste qua sono le cacche di uccelli. I capperi sono. Cacche! Buono. Basta, basta che c'è troppo sale. Basta saltare. E' curioso anche Serena stavolta. Ma a Serena a te non piace niente. Guarda qua! Sono troppo salati! 10. Non è andato sotto. E' la 22. 22. Eccolo lì. E va bene. Qual è? Le caramelle queste sono buone. Queste? Le 20 sono cadute a Serena. Vai, dai. Vai Nikita! Basta tu! Che schifo! Ma non ti piace neanche le caramelle a te! Queste no! Ma possibile? Prendi il 10. Il 26. Il 26. Il 26, affronta. Tu sei stato fortunato. Ehi! Ogni tanto capita che il vulcano esplode. E' quello di Serex. Sette! Sette! E' questo! Guarda sei fortunato! Sè! Smarties! Ma quelle ti piacciono? Devo mangiarle! Nikita! I blu! I preferiti! Basta Nikita! Troppo buoni! Mi sa che vinco io in questa gara! Eh non c'è un vincitore! C'è chi è capace di mangiare tutto! E chi no! E' tranne il covestì però! Gli insetti li mangiati! Adesso capita una serena! Avanti Nikita è il tuo turno! No! Ghi! 35! 35 sono gli insetti! Nikita va a casa! Con queste? No! Questi? Sì! Questo è il 35 e tu! Mangia! Fagli vedere! Sono gamberi secchi! Ah sono gamberi! Cinesi! Li avevi presi dove? Mangia! Non sono buoni Nikita! Hanno il gusto di cacca e di acqua di ciasco! Non sono buoni Nikita! Hanno il gusto di cacca e di acqua di ciasco! Non avevi dovuto mangiare tutto! Vai! Insalata! Cosa più difficile per Nikita! Ah eh! Per Nikita si non ha mai mangiato l'insalata! È la prima volta che la mangi! Se no perdi punto se non mangi! 5 patatine! 5 patatine! 5 patatine! No! Qua sono buone! Per voi! Sono fatte con tartufo! Ve l'ho detto! Con tartufo! Guarda che non rido di te! Patatine a tartufo! Rosso e nero! Spero che mi capi al nero! Su quello che ti riesce mangi! Spero che non mi capi al nero! Spero che ti capi al nero! Rosso e nero! Eee! Nero! Ooooooh! 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 Dai, Serena! Sacrificati! Poi ti piace i peperoncini! Oooo! Dai! Slime o chica? Chica! salutiamo! ciao ciao dal canale Nikita mettete i like e comprate queste cicchia così annuncate tutto! cosa fai l'istrutto Sean? dormo non disturbatemi